Ci troviamo a Santo Stefano di Bica, a casa del maestro Peppino Mazzullo, icona della televisione italiana perché sappiamo tutti che ha dato la voce a Topo Gigio. E il maestro Mazzullo è stato colui che ha dato la voce sin dal 1959 a questo simpatico personaggio. Chiaramente il maestro Mazzullo ha una lunga carriera alle spalle, cinematografica, è stato attore, regista, doppiatore. Io sono un attore fortunato, io ero alla RAI, sono entrato alla RAI a fine 50 e c'era la famosa regista Lideri Pandelli che faceva così. Io avevo cominciato già a far capire le caratteristiche della mia voce, della mia personalità. Ho lavorato con Mosca, Giovannino Mosca, ho lavorato con Mersi, Manzoni, insomma tutti i grandi di una volta. E facevo voci, 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 voci. Se spassa la voce è che io ero cosiddetto vociaro. Sappiamo che lei è bravissimo a fare tutte le voci, non ha il limite. Vociaro, vociaro, no? Scherzavo, ma io non ho mai preso niente. L'altro lei sa imitare molto bene? No, io non so imitare. Io Gasman, qualcuno. Gasman, ecco la tomba, ecco l'altare che deve bagnarsi e così via di seguito. Non vi voglio annoiare, mi sono sempre divertito. Allora, questa Lideri Pandelli una volta si è ricordata, dici, quando è arrivata, scusi, la compagnia Perico è arrivata alla RAI e cercava attori. Dici, io conosco un attore, si chiama Peppino Mazzullo, che una volta ha dato una vocina a un gattino. Prima di Topogigio ho dato la voce a Messer Coniglio, una vocina. Ciao bambini, sbaglierò, ma ho l'impressione che ci stia spiando qualcuno. E pì! Era più o meno caratterizzato così. E così ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere la signora Maria Perico, la creatrice di tutti i pupazzi, perché io allora ancora non l'avevano fatto, Topogigio l'hanno fatto dopo tre anni che facevo questa trasmissione del Messer Coniglio. dopo tre anni, dici, Peppino, guarda qua, questo qui, mi hanno fatto, mi hanno dato più o meno le indicazioni che voce volevano, eccetera. Ma cosa mi dicevo? Ma io sono un pupazzetto, eccetera, eccetera, eccetera. Ho parlato un pochino con questa voce. Hanno cominciato, allora era una bella compagnia, bene organizzata, c'era anche l'autore che scriveva. E mi ricordo, Guido Stagnaro, che era quello che scriveva, dice, senti, Peppino, ti mando, dopo 15 giorni di questo esperimento, ti mando un copione in portineria, la solita fiabetta che ha scritto Esopo, Trilussa, il topo cittadino, il topo compagnolo. Tu te lo leggi, scegli quale topo vuoi fare, però ricordati di dargli quella voce che abbiamo assieme trovata nello studio. È logico, perché dice, ecco, tac, l'hanno bloccata quando io ho detto, cosa mi dici mai, sono un topo compagnolo, qui sono in città, ho paura, mi piace la compagna, perché in campagna c'è la castagna, l'amore si fa tra le litre, la la ciappa su e porta qua. Ma insomma, scherzando così, ci dagli quella voce lì. E così è nato, topo cittadino, topo compagnolo, primo testo, così, così. Mi è piaciuto a tutti quanti. Maria Pergo ci ha messo più impegno, dice, aspetta un momento, così, così, l'ha chiamato topogigio. Questo topogigio è andato a finire su Carosello, per la pubblicità dei pavessini. Sì, sì, e dopo Carosello tutti a nanna. Mi ricordo, sì, mi ricordo. Poi c'è la sua magistrale interpretazione di Richetto, lo scolaretto che veniva sempre bocciato. Pignolo! Canterò il passerotto. No, diceva Ciro Tortorelli, il passerotto tu non lo canterai. Lo canterai il giorno che sarà stato promosso. Se è stato promosso, no, la so a memoria così. Cosa le è rimasto di tutta questa lunghissima, vasta espedienza con la televisione? Se la televisione di ieri, ecco, facendo, se facciamo un patagonio tra la televisione di ieri, quindi degli anni 59, 60, 61, a quella di oggi. Ma allora nascevano personaggi, tanto che ve le ricordate ancora adesso. Oggi, da un giorno all'altro, spariscono. Oggi è tutto commerciale. Lei guarda una cosa che le interessa, dopo un minuto, tac, ti fanno dieci minuti di pubblicità. Poi un altro minuto della cosa che ti interessa. E poi altri sette, otto, dieci minuti. Insomma, io non ce la faccio più. Tante volte chiudo gli occhi e mi immagino le cose per conto mio. La creatrice ce l'ha, tommo. Ho capito. Signora Pergo. Io ho tante fotografie. No, io, il tuo padre. No, no, no. Mi piacerebbe vederlo ancora. Grazie allora, maestro. Raffaella, sto male? Oh, Gigi, ma che cos'hai? Cosa ti senti? Mi sento bene, grazie. E tu? No, non ho capito questa storia. Ti senti bene o ti senti male? Ma no, mi sento benissimo. Voglio dirti, Raffaella, sto male vestito così? No, stai benissimo. Sei elegantissimo e sei il più bel topino d'Italia. Sì, ma cosa mi dici mai? Sei la mia coccola. Sì, va bene, però adesso io devo andare via perché devo presentare lo spettacolo come al solito. No, no. Raffaella. Sentiamo. Posso presentare con te? Tu? Presentare con me? Ma tu, Gigi, tu sei matto. Sì, sono matto d'amor per te. Matto, matto d'amor per te. Olè! Matto, matto.